Ben ritrovati amiche e amici dell'Atletica. Enrico Riccobon, Bruniera a Friuli in Tagli, al Gran Premio di Mezzofondo di Trento, ha migliorato il record regionale degli 800 metri di Fabio Bortolotti, 1'47'91 nel 2009, portandolo a 1'47'55. Per vincere si è lasciato alle spalle lo spagnolo Eduardo Romero Perez e il bergamasco Eliassine. Il risultato era nell'aria e il 27enne bellunese lo aveva annunciato al termine del meeting di Bruniera della scorsa settimana. Riccobon, campione italiano dei 1'5 al coperto nel 2019, detiene il record regionale indoor di 800 e 1'5 e ora può puntare il radar su quello dei 1'5 all'aperto di Fabio Olivo, 3'41'67, vecchio di 35 anni. Deve fare in fretta però il suo compagno di squadra, Mascia Costa, recentemente lo ha già sfiorato con 3'41'73. Organizzata dal Comitato regionale della FIDAL assieme al Comune di Trieste, in collaborazione con il CUS Trieste, la prima edizione dell'Alpe Adria Athletic Games tra le rappresentative maschili e femminili di Slovenia, Veneto, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia, ha visto il successo dell'Emilia Romagna che ha totalizzato 212 punti e ha preceduto il Friuli Venezia Giulia con 195, la Slovenia con 193 e il Veneto con 182. E' stato Paolo Messina il protagonista principale dell'evento. La promessa della Trieste Atletica è giunto terzo sui 200 ma in un significativo 21 e 26 che costituisse la quinta prestazione regionale assoluta di sempre e la seconda promessa. Da segnalare tra gli uomini anche il secondo posto di Fabio Vici della Trieste Atletica con un bel finale in 3'58 e 67 sui 1.500. La vittoria nell'asta di Lorenzo Modugno della Triveneto Trieste con 4 metri e 50 e quella di Enrico Saccomano del Malignani Libertas nel disco con 54 metri e 61. Nelle donne vittoria scontata di Giorgia Bellinazzi, Bruniera Friuli in tagli nei 200 in 23 e 98. Secondo posto di Francesca Menotti, Libertas Friuli Palmanova nei 400 in 57 e 22. Terza Ilaria Bruno, Bruniera Friuli in tagli sui 1.500 con 4.41.09. Seconda Meta Sterni, Bord Trieste nei 100 ostacoli in 14 e 57. Seconda anche Giorgia Fabris, Cus Trieste nell'asta con 3 metri e 45. Terza Deborah Tripodi, Atletica Gorizia nel triplo con 12 metri e 55. Continua la serie vincente nel peso della campionessa italiana a lieve Giada Cabai del Malignani Libertas con 12 metri e 82, peso da 4 kg. Ed ennesima vittoria anche per Federica Botter, Bruniera Friuli in tagli, campionessa italiana promessa del Giavellotto con 52 metri e 28. Testimoni al decezione Franco Arese, già campione d'Europa dei 1.500 e past presidente nazionale della FIDAL. Abbiamo raccolto le parole dei presidenti di Emilia Romagna e Veneto e quelle del capodelegazione del Friuli Venezia Giulia. Sentiamoli. È un grande piacere essere qui a Trieste per questo incontro di rappresentative regionali, aggiungo con la Slovenia, che questa è la vera sfida che tra l'altro chi organizza il comitato regionale Friuli Venezia Giulia e il Cus Trieste vogliono cogliere. Organizzando oggi qui un incontro tra Slovenia, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Veneto per dare spazio agli atleti, quelli non impegnati negli impegni di altissimo livello, siamo nei giorni di UG, nei mondiali e questa è una grandissima opportunità. Dall'altra credo che sia anche l'occasione per chi sta lavorando qui per allargare la platea delle nazioni, in questo caso che potranno partecipare i prossimi anni. Credo che questa sia una bella sfida per loro ma anche per noi come comitati regionali per far crescere dei talenti e una nuova leva d'atleti. Quindi ottimo lavoro e grazie. Beh, ritornare a fare l'Arpe Adria sicuramente è una cosa molto positiva. Mettere insieme le regioni del nord-est, assieme del nord-est Italia, assieme a quelle che stanno ai nostri confini e che adesso fanno parte dell'Europa è un grande momento di incontro tra i nostri ragazzi ma soprattutto di confronto per la nostra atletica leggera. Credo che questa manifestazione è voluta, organizzata da Cus Trieste e dal comitato Friuli Venezia Giulia dovrà avere uno sbocco e una rivalutazione nel prossimo futuro e naturalmente per noi e per i nostri ragazzi che non sono quelli di prima fila ma sono quelli di seconda fila ma senza togliere nessuno niente a questi sarà un'occasione veramente di confrontarsi a livello internazionale e avere la possibilità di confrontarsi con i loro coetanei delle regioni limitrofe e delle nazioni limitrofe. e quindi un grazie al comitato regionale e al Cus Trieste che ha organizzato questa manifestazione. L'Alpe Adria è stata l'erede di un altro momento di giochi che si chiamava Giochi delle Tre Regioni dove in effetti quella volta c'erano la Friuli Venezia Giulia quando le regioni italiane furono costituite proprio in quegli anni là Friuli Venezia Giulia, Slovenia che era uno stato tipo regione della Federazione Jugoslava e la Carinzia. Poi questo si è trasformato nei giochi di Alpe Adria che adesso abbiamo questo nome e fu ben allargato a altre partecipazioni, Veneto certamente ma ricordo Trentino Alto Adice, ricordo la Baviera, ricordo un anno addirittura venne l'Ungheria una provincia dell'Ungheria, quindi una regione dell'Ungheria, quindi la Croazia quindi questa estensione poi forse implose per eccesso di gigantismo come si usa a dire. Detto questo io sono veramente felice oggi di, primo, rappresentare in qualche maniera la squadra del Friuli Venezia Giulia ma di aver avuto l'occasione di incontrare tanti vecchi amici in particolare, quindi anche i qui presenti, forse più di tutti i loro due Alberto Morini e Francesco Guagliatti che incontravo abitualmente tempo fa e poi anche quelli che adesso in questo momento stanno non so se in tribuna o altro ma da Franco Arese a il nostro grande Venanzio Ortis quindi dei bei personaggi che sono qua e che nobilitano questa manifestazione se, come è stato annunciato da Massimo Di Giorgio, avremo il modo di estendere questo addirittura a una Alpe Adria più consistente, addirittura portandola ad otto squadre ben venga, io non mi tirerò indietro a dare una mano speriamo bene però perché non dobbiamo stare attenti a non volerci ingrandire troppo ricordo ancora una cosetta, già che ci siamo, che la sede che oggi è Trieste non è detto che debba essere sempre Trieste, quando c'erano i giochi della Alpe Adria si andava a farli un anno qua, un anno in Croazia, un anno l'ultimo addirittura mi ricordava, mi pare Massimo proprio, che sono stati fatti in Croazia sulla costa d'Almant è un posto magnifico, non mi ricordo dove ma mi dicevano che era fantastico, quindi se assorbiamo altre partecipazioni dobbiamo anche pensare che non saremo sempre noi quelli che organizzeremo magari la prima puntata suggerirò a Massimo di proporla di nuovo a Trieste ma dopo si potrebbe pensare di venire da voi in Veneto, in Trentino Alto Adige addirittura in Baviera, in Slovenia, in Croazia e così via quindi mi sono veramente contento e spero appunto che questo possa invogliare anche tanti a seguirci sempre di più, grazie La 51esima edizione dello storico meeting del Cus Trieste quest'anno con la consueta regia di Davide Marion si è svolto in concomitanza con la prima giornata dell'Alpe Adria Athletic Games e assegnava i trofei Belladonna, Gerlani e Colautti sui 100 metri la vittoria è andata allo sloveno Anei Prappotnik in 10 e 38 davanti al connazionale IMEI Gulimnar in 10 e 47 con Michele Brunetti, Trieste Atletica quarto in 10 e 81 notevoli miglioramenti per trine esterni della Trieste Atletica con 49 e 10 sui 400 mentre lo sloveno Dino Subasic ha saltato in lungo 7 metri 45 bello il giavellotto con l'intramontabile 38enne sloveno Mattia Cranici 69 metri e 73 Giacomo Medeosi del Malignani Libertas 60 metri 95 e il ritorno di Luca Sordi con 52 metri e 70 tra le donne l'azzurra Aurora Berton della Libertas Friul Palmanova ha vinto i 100 in 11 e 67 la slovena Aneia Simonic ha primeggiato sui 400 metri in 53,91 e le croate hanno piazzato una doppietta sugli 800 con Nina Vukovic e Cristina Dudek rispettivamente in 2,807 e 2,857 sempre all'altezza Giada Carmassi sui 100 ostacoli in 13,30 ordinaria amministrazione invece per Selin Sbrekar del Cus con 1,74 di alto e 6,13 di lungo per l'ennesima slovena Maja Bedrak infine il giavellotto Martina Ratei di Celie ha lanciato a 51,87 metri davanti alla croata Lucia Vitanovic a 51,39 e Margherita Regonaschi del Cus ha allungato a 49,01 metri che è la quarta prestazione regionale all time e la seconda promesse ritorneremo la prossima settimana per un approfondimento sull'Alpe Adria Athletic Games e sul meeting del Cus Trieste tutto cominciò nel 1990 a Udine dall'ora migliaia di atleti hanno posto la loro firma sul meeting internazionale di atletica Sporzoli da Rietà che andrà in scena per la 33esima volta sabato 30 luglio allo stadio Teghilli Lignano Sabbiadoro alcuni di questi di universale grandezza come Michael Johnson, Calvin Schmidt, Jelena Isimbaeva, i giamaicani Asafa Powell, stelle Anne Fresial, Elaine Thompson e tra questi anche le stelle italiane più luminose come Stefano Tilli, Stefano May, Luca Toso e Alessandro Talotti al meeting sono legate poi le iniziative per l'inclusione sociale ospitando fior di campioni diversamente abili il meeting riporterà alla ribalta i reduci della rassegna iridata pronti per quella continentale di Monaco tra questi Daphne Schiffers, due volte campionessa mondiale dei 200 metri piani nel 2015 e 2017 e attuale primatista europea della specialità nei 400 metri femminili fedelmente presenti la squadra giamaicana la stella avrebbe dovuto essere Michael Jacobs da tempo iscritto nei 100 metri ma assente per l'infortunio ai mondiali di Eugene ci saranno invece le azzurre Nadia Batocletti, le friulane Sintacu Vissa con le velociste Giorgia Bellinazzi e Aurora Berton anche la pedana del salto in alto sarà onorata da un pugno di atleti con un personale superiore ai 2 metri e 30 tutti questi aspetti sono stati svelati nel corso della conferenza stampa della scorsa settimana alla quale si riferiscono le nostre immagini dal direttore del meeting Giorgio Dannisi e da Stefano Scaini che si occupa assieme a Giampaolo Urlando degli atleti d'élite sono intervenuti l'assessore regionale allo sport e alla cultura Tiziana Gibelli i rappresentanti del comune di Lignano Massimo Brini e Udine Lorenzo Ioan, il presidente della fila regionale Massimo Di Giorgio Ivan Minigutti del comitato CIP Friuli Venezia Giulia ed Enzo Del Porno, presidente degli azzurri d'Italia Friulani a conferma dell'importanza del meeting lignanese Rai Sport ha assicurato la diretta televisiva a partire dalle ore 20 e 30 l'ultimo messaggio del socialmente corretto lanciato da Dannisi e company è dedicato ai ragazzi della comunità del melograno di Lovaria di Pradamano le medaglie in ceramica degli atleti che saliranno sul podio sono state prodotte da loro Live hard field di Eugene ha spento i riflettori sulla rassegna mondiale di atletica la neo azzurra Sintaku Vissa porta a casa un'esperienza positiva per quello che ha fatto e per quello che ha imparato la rivedremo in pista sabato al meeting di Lignano lei ha voluto portare un breve saluto a tutti gli sportivi della nostra regione sentiamolo Ciao, volevo solo mandare un saluto speciale a tutti gli amici sportivi del Friuli Venezia Giulia agli amici del Telefriuli grazie per avermi seguito e spero che ci siano altri eventi in cui potrò mostrarmi di quanto valgo e di prestazioni migliori di quelle che ho fatte ai mondiali un'emozione inescrivibile che penso di averlo dimostrato con le interviste e con la performance e questo è tutto anche per questa settimana grazie per la fedele attenzione arrivederci a tutti a lunedì prossimo M-M-I-Double S&P Mi